Ciao da Dario di Alternativa Linux. Dopo esperimenti o configurazioni azzardate o per installare l'ultima versione di Linux Mint in luogo di una precedente, senza ricorrere alla procedura di aggiornamento prevista, prima o poi puoi trovarti a dover installare nuovamente Linux Mint nello stesso computer in cui era già installato. Ecco qualche suggerimento a seconda degli scenari, infine come io faccio per me e le mie specifiche esigenze. Le fasi consistono nel salvare preventivamente dati personali ed eventuali configurazioni di programmi, eliminare le partizioni Linux esistenti, reinstallare il sistema, programmi aggiuntivi e ripristinare dati e con cautela le configurazioni. Anzitutto fa differenza se devi reinstallare la medesima versione di Linux Mint o una differente. Il primo caso è più semplice da affrontare perché sai che l'intero sistema operativo ed i singoli programmi aggiuntivi li ritroverai esattamente tutti nella medesima versione e senza modifiche. Diventa quindi più facile ripristinare backup e configurazioni. Se le versioni di Mint sono differenti, i medesimi programmi installati dal gestore applicazioni o comunque dai repositori ufficiali potrebbero essere distribuite anch'essi in versioni differenti. Dopo modifiche importanti può cambiare la struttura di file di configurazione, funzioni o impostazioni non più compatibili con la versione che adoperavi. In questo caso ogni tanto capita di non ottenere il risultato previsto nel ripristinare backup. Proprio a riguardo dei programmi da reinstallare, in linea generale secondo me esiste una serie di valutazioni da fare per ottenere un giusto equilibrio tra benefici ottenuti e sforzi richiesti per ripristinare una precedente configurazione. Talvolta, a mio parere, la scelta migliore è quella pulita. Per me l'installazione non è importante, solo i miei dati lo sono, perché ormai riconfiguro a puntino una nuova installazione in meno di mezz'ora. Gli utenti di Linux Mint hanno vita facile per la creazione e ripristino di configurazioni di sistema. Trovano preinstallato TimeShift, che io non uso per le ragioni anticipate ma che consiglio nel video post installazione di Linux Mint. E anche la schermata di benvenuto di Linux Mint, che si apre al primo riavvio dopo una nuova installazione, lo suggerisce nei primi passi. Ma per impostazione predefinita TimeShift non salva i dati personali della cartella utente. Credo sia bene così o le dimensioni delle istantanee potrebbero lievitare. Anche se i meccanismi per evitare dati ripetuti sono raffinati. TimeShift si limita quindi a fare fotografie al sistema a intervalli pianificabili per consentirti di tornare ad uno stato precedente se dopo aggiornamenti, modifiche o installazioni sorge un problema. Alcuni in rete chiedono se si possa creare uno snapshot con TimeShift e reimportarlo in una nuova installazione. Ma allora credo sia meglio ricorrere ad uno strumento come Clonzilla, che crea il collone del disco mentre non è attivo attraverso una sessione live USB. Io però non ho approfondito questo genere di strumenti, perché non ho una flotta di computer con Linux Mint da gestire, perché il sistema operativo viene continuamente aggiornato e perché riconfiguro una nuova installazione con configurazioni e impostazioni personali in un quarto d'ora dopo l'installazione, anche se si tratta di differenti versioni di Linux Mint. Ma procediamo con ordine. Come sai, per ogni utente Linux predispone un'apposita cartella in cui trovi documenti, musica, video e altri file multimediali. Ma anche se normalmente non sono visibili nel file manager, è dentro la home di ogni utente che vengono prevalentemente salvate impostazioni, configurazioni, personalizzazioni del sistema e dei programmi. Per verificare di persona, entra in home con il file manager e vai su visualizza, mostra file nascosti. Puoi anche premere sulla tastiera il tasto control insieme ad H per attivare e disattivare la visualizzazione dei file nascosti. Vedrai cose mai viste. Tante cartelle e file il cui nome comincia con un punto che sta proprio ad indicare al sistema che normalmente non dovrebbe essere visibile per evitare modifiche o eliminazioni accidentali. Se usi Thunderbird come client di posta, configurazioni e messaggi sono salvati nella directory nascosta .thunderbird nella tua home. Se vuoi salvare tutto, copia il contenuto di questa cartella in un supporto esterno. Ma specie dentro la cartella .config ce ne sono tante relative ai singoli programmi e impostazioni. Ma attenzione, se fai una copia della cartella home con i file e cartelle nascosti non visualizzati, copierai solo i documenti e non anche file e cartelle di configurazione. Attiva quindi la visualizzazione dei file nascosti e copia tutta la home su altro supporto e avrai copiato tutti i dati personali ma anche quasi tutte le configurazioni. Queste ultime però le ricopierei nella nuova installazione solo se reinstalli la stessa versione di Linux Mint e non una differente o successiva. E almeno io lo farei solo per i singoli programmi di maggior interesse e non tutti indistintamente. Programmi e relative strutture di cartelle e file di configurazione sono infatti soggetti a continue modifiche e talvolta alcune sono tanto importanti da non essere compatibili con la configurazione di precedenti versioni prima o poi. In questi casi ricopiare in una nuova installazione di un programma impostazioni non aggiornate e non compatibili rischia di compromettere subito la configurazione costringerti a reinstallare ripartendo da zero. Passando quindi a dati personali, programmi aggiuntivi installati e volendo configurazioni, gli utenti di Linux Mint dispongono di un rudimentale ma efficace software utilissimo per le reinstallazioni, strumento di backup, nel menu di Linux Mint alla voce amministrazione. Qualcuno nei repository commenta lamentando che non esista documentazione sul programma, ma ce n'è davvero bisogno o basta leggere due scritte e poi seguire le semplicissime procedure guidate? Mint Backup, questo è il nome effettivo del pacchetto, ti fa salvare per poi poter ripristinare una copia della tua cartella home e relativo contenuto. Ma come è giusto, e poi spiego perché, per impostazione predefinita non salva anche cartelle e file nascosti presenti nella tua cartella principale. Strumento di backup consente di includere anche singole cartelle e file nascosti nel backup, e io stesso uso questa possibilità in fase di salvataggio prima di formattare e reinstallare Linux Mint. Ho imparato dove si trovano i file con le preferenze delle aree di lavoro di Gimp e Cadent Live, dove sono salvati i provider aggiuntivi di Hypnotics, salvo le mie azioni personalizzate del file manager Nemo, repository aggiuntivi e altre impostazioni in modo molto mirato e non a caso. Se impari quali impostazioni vuoi mantenere tra le installazioni, devi imparare, come ho fatto io, per i programmi che ti interessano di più dove si trovino per poterli includere in un backup. Vediamo però come fare il backup. Il lavoro è facile e rapido. La versione 20 ed alcune precedenti di Linux Mint dispongono di questa utilità che si trova nel menu alla categoria amministrazione. Avvia l'utilità per la creazione guidata di quello che hai chiamato backup dati personali dal bottone Crea backup. Il file compresso .tar.gz viene salvato normalmente in una cartella backup nella tua home, ma immagino che dall'elenco a discesa vorrai indicare l'unità esterna o indicare una specifica cartella creata. Non salvare in backup in una partizione da formattare, insomma. Proseguendo, la successiva schermata consente di escludere dal backup file e cartelle presenti nella directory home utente. Aggiungi singoli file o intere cartelle da escludere dal backup e prosegui. La finestra successiva ti avverte che per impostazione predefinita l'utilità di backup non prende considerazioni file e cartelle nascosti all'interno della tua home. Come dicevo è giusto non copiare informazioni di configurazioni che possono confliggere con i programmi presenti nella nuova installazione in cui le importi. Meglio evitare di includere nel backup tutto se puoi reimportare solo per intero tutto quanto. Solo esigenze personali specifiche ed esperienza possono indurti a cercare su internet o a fugare nel file system per trovare file e impostazioni da mantenere e ripristinare con strumento di backup o con una semplice copia. Sappi che non li conosco tutti, ecco. Completato il backup dei dati personali, dal medesimo strumento di backup puoi ottenere un elenco dei programmi installati successivamente in Linux Mint. Solo quelli non presenti tra i programmi preinstallati. In un formato che consente la successiva rilettura e installazione in un solo gesto. Il file ottenuto è minuscolo, si limita a riportare il nome del pacchetto software per ciascuno di essi. Diciamo che consente di installare con un solo comando programmi che normalmente installi singolarmente dal centro software gestore applicazioni. Ma questo non garantisce che installi tutti i programmi nelle medesime versioni se cambi versioni di Linux Mint. La lista cerca i programmi nei ripositori attuali e li installa nella versione disponibile. Ecco perché ci vuole cautela a ricopiare configurazioni precedenti in una nuova installazione. Clicca quindi sul bottone Crea backup nella parte di selezione del software. Verifica l'elenco delle installazioni e disattiva il segno di spunta accanto ai programmi che non vuoi mantenere. Nel dubbio io tolgo il segno di spunta, perché spesso si tratta di componenti aggiuntivi di qualche programma che forse non reinstallerò. Preferisco più pulizia e meno dati inutili e potenzialmente in conflitto. Clicca su avanti e un file di testo .list con la data odierna sarà salvato nella cartella backup dentro a documenti. Nella nuova installazione, come è abbastanza intuitivo, reinstallata la medesima versione di Linux Mint, meglio se dopo aver effettuato aggiornamenti e applicazioni di driver, userai il medesimo strumento di backup per importare nella nuova installazione, prima forse meglio i programmi, e poi i dati personali. Intervenendo stavolta sui corrispondenti pulsanti di ripristino. Parliamo più avanti del momento in cui farlo. Se non hai Linux Mint o non vuoi usare strumento di backup o altri programmi come DejaDoop o KeyBackup, puoi copiare contenuto visibile e nascosto della tua cartella home e poi ricopiare nella nuova installazione almeno i documenti e, con cautela, anche singole cartelle e file nascosti relativi alle configurazioni. Comincia abilitando in Nemo il file manager la visualizzazione dei file nascosti. L'importante da salvare, a mio parere, si trova proprio nella cartella home e nelle sottocartelle. Se reinstalli la medesima versione di Mint, ti basterà reinstallare i programmi e poi copiare nella nuova cartella home il contenuto della copia, comprensivo anche di file e cartelle nascosti. Se stai cambiando versione di Mint, non lo farei o lo farei con cautela. Per quanto riguarda i programmi aggiuntivi data installati, se non vuoi usare lo strumento di backup, puoi semplicemente creare un file di testo in cui annotare il nome dei programmi che di solito installi. Basta il nome del pacchetto principale e non anche di quelli secondari. Nella nuova installazione potrai lanciare nel terminale un unico comando nella forma sudo apt install programma 1, programma 2, programma 3, invece che reinstallare ogni singolo programma da gestore applicazioni. Sai che anche i pacchetti secondari che servono sono installati automaticamente. Un solo comando dopo tutti gli aggiornamenti e reinstalli tutti i programmi con un solo gesto. Copiato il salvabile, devi avere pronta una chiavetta USB di installazione di Linux Mint per proseguire. Se ti serve, vedi la playlist e i video sulla preparazione dell'installazione di Linux Mint insieme a Windows. La partizione che ospita Linux Mint sarà usata per la nuova installazione e va eliminata. Sempre. Se hai previsto un'apposita partizione home per l'installazione attuale e vuoi mantenerla, non la formatterai e la userai di nuovo. Ma come anticipato, se cambi versione di sistema operativo, rischi di mescolare configurazioni vecchie e nuove, riutilizzandola, perché è lì che sono nascoste le configurazioni. Puoi salvare il contenuto di home, eliminare la partizione e procedere al partizionamento automatico in fase di installazione. Successivamente, copierai nella nuova home le cartelle e i documenti che vuoi, ma non quelle nascoste se la versione di Linux Mint a cui passi non è la stessa della precedente installazione. Se hai una partizione swap, quella sarà formattata prima di essere riutilizzata. Tutto ciò indipendentemente dal fatto se hai solo Linux Mint nel computer oppure anche altri sistemi operativi. Avvia il computer dalla chiavetta USB live della versione di Linux Mint che vuoi installare. Caricato il desktop, nel menu di Linux Mint, in inglese, avvia l'utilità preinstallata GParted. Devi completamente eliminare le partizioni, senza formattarle, devi lasciarle come spazio non allocato. Tutte le azioni compiute devono venire confermate con il pulsante applica, quello a forma di baffo di conferma, il più a destra nel pannello di icone. Se hai una partizione separata per lo swap, potrebbe essere necessario smontarla prima di procedere. In GParted seleziona la partizione e con il pulsante destro del mouse scegli Swap off. Distruggi la partizione swap e riavvia la sessione live USB. Avviata la sessione live USB della versione di Linux Mint da installare, stabilisci la connessione ad internet, avvia l'installazione cliccando sull'icona installa Linux Mint. L'utilità userà automaticamente lo spazio non allocato, sia che Linux Mint vada installato da solo, sia che si debba installarlo a fianco di Windows. Se hai una partizione home, una swap o entrambe e intendi mantenerle, procedi con la voce Altro nel tipo di installazione seguendo le istruzioni per l'installazione nell'apposito video. La differenza sostanziale rispetto ad una installazione con partizionamenti manuali risiede nel fatto che stavolta le partizioni sono già presenti e dovrai solo indicarle all'installazione di Linux Mint che le riutilizzerà. Lo ripeto, la partizione swap verrà formattata, quella home se vuoi mantenerla no. Seleziona quindi la tua eventuale partizione swap dall'elenco e poi clicca su modifica sotto all'elenco delle partizioni. Verifica che il tipo sia primaria e che la posizione sia inizio di questo spazio. Prima di confermare, dall'elenco di opzioni usare come, seleziona area di swap se non è già selezionata. Metti il segno di spunta sull'opzione formattare la partizione e clicca su ok. Poi identifica e seleziona l'eventuale partizione home se vuoi mantenerla e clicca su modifica. Deve trattarsi di una partizione ext4 con journaling e punto di mount slash home. Accerta che non si attiva la spunta nell'opzione per formattarla. Poi premi ok. A questo punto l'utilità di installazione di Linux Mint dispone di tutte le informazioni per installare nuovamente il sistema operativo nel migliore dei modi. Puoi procedere all'installazione identificando nell'elenco delle partizioni quella di tipo EFI che ha come sistema Windows Boot Manager e cliccando su installa. Per riconfigurare una installazione suggerisco di seguire il percorso logico della playlist Linux Mint installazione e configurazioni che trovi dalla pagina principale del canale su youtube.com slash c slash alternativa Linux. Io stesso seguo i passaggi della post installazione delle altre configurazioni aggiuntive e diversi accorgimenti sulle possibilità d'uso di Linux Mint per lavoro. Al primo avvio dopo la reinstallazione quindi prima applica gli aggiornamenti e le altre configurazioni e personalizzazioni. Poi installi programmi aggiuntivi dalla lista software preparata con strumento di backup o con un comando apiti nel terminale. Infine riporti i documenti e le configurazioni nascoste per i programmi che desideri nella nuova installazione. Come accennavo anche una semplice copia di cartelle o della sola cartella home comprensiva di file e cartelle nascosti fatta in una chiavetta USB prima della formattazione possa consentire di riportare nell'installazione tutto quanto desiderato. Per i programmi aggiuntivi e reinstallati potresti temporaneamente sostituire le cartelle di configurazione create con quelle che provengono dal backup. Puoi farlo entrando con nemo nella tua cartella home e abilitando la visualizzazione di cartelle file nascosti con control più h, rinominando temporaneamente la cartella punto nome programma della nuova installazione e copiando quella proveniente dal backup. Se non ci sono problemi elimini la precedente. Si tratta di un lavoro lungo e non so quanto convenga. Installazione e stato di salute del sistema sono sempre riconfigurabili da zero. Per dati personali smarriti non c'è rimedio, quindi li tengo da sempre separati. Questo serve a spiegare il mio modo di procedere e non è il modo migliore, ma solo quello migliore per me. Anche in tanti anni da utente Windows, prima di passare totalmente a Linux Mint, non ho mai tenuto dati e documenti nelle cartelle utente. Neppure in Linux faccio ricorso alla cartella utente per tenere i miei documenti. I miei dati risiedono in un disco differente da quello del sistema operativo, formattato NTFS per poter essere accessibile anche da Windows. Di questo tengo copia sincronizzata con un hard disk esterno che posso portare in giro con il portatile, riversando successivamente eventuali modifiche nel PC fisso come spiego a proposito di GR Sync sull'utilizzo di Linux Mint per lavoro. Io non creo una partizione home e neppure una di swap. Installo il sistema automaticamente, a fianco di Windows e non, con ottimi risultati. Dall'installazione che voglio rimuovere mi limito a salvare file di configurazione di alcuni specifici programmi. Filezilla, profili del firewall, impostazioni legate ai progetti web, il contenuto della home in cui tengo pochissimi documenti di consultazione quotidiana. Sapendo dove si trovano le uniche impostazioni che mi salvano tempo, includo file cartelle nascosti in un backup dati con strumento di backup. Dopo tre minuti sono in grado di formattare e reinstallare. Reinstallato il sistema, imposto Mirror Locali e lo aggiorno. Al riavvio applico i driver video e riavvio di nuovo. Durante queste operazioni attivo il firewall e creo le regole che mi servono. Personalizzo file manager, desktop e opzioni di montaggio dei dischi. Poi installo tutti i programmi aggiuntivi con un colpo solo. Da un sistema operativo vecchio ad uno nuovo configurato a puntino in mezz'ora e con una serie minima di preparativi. Lo ammetto, sono il primo fruitore dei contenuti che ho finora prodotto, perché ci ho raccolto quasi tutto ciò che so in proposito. Di per sé reinstallare Linux Mint non è molto più complesso che installarlo la prima volta. Anzi, è l'esperienza che consente di organizzare al meglio le operazioni, in base alle proprie esigenze. Ma puoi stare tranquillo che non impiegherai mezza giornata per reinstallare Linux Mint. Grazie per l'interesse, spero che tu trovi informazioni utili o che tu abbia da condividerne. A presto, ciao! Grazie a tutti!